Consigliere, Alternativa Popolare nasce da una costola di NCD, di fatto siete nati a destra, però vi siete spostati a sinistra. C'è qualche problema nel trasferirlo poi a chi vi ha votato? Si chiamava nuovo centro-destra. È chiaro che nel momento in cui la destra si è spostata decisamente più a destra, inevitabilmente il centro svolge la sua funzione di equilibrio anche nella dialettica politica. Io credo che la prova che il centro funzioni quando è chiamato a governare è dato dai risultati in un periodo particolarmente difficile di questo governo che si vede criticato a sinistra sul mercato del lavoro e sul job act. Questa è la prova che il centro funziona e può anche scrivere con la mano destra e con prudenza e riforme che possono essere approvate anche da un centro-sinistra. Ma si può stare, come è accaduto oggi, in Sicilia a sinistra e in Lombardia invece nell'area di centro-destra con la Lega? Ma la logica è sempre quella, se nel concreto dell'attuazione del programma c'è uno spazio che dà per esempio a chi come me viene da una tradizione cattolica attenzione alla famiglia, a una solidarietà che non sia così gratuita e pelosa e dia spazio effettivamente a creare le condizioni di produrre benefici e consentire al lavoro e a chi lavora di crescere e far crescere le persone, è chiaro che ci si trova bene in ogni tipo di alleanza che ha questi obiettivi. Il giorno in cui questo non è possibile ognuno fa le sue valutazioni. Salvini proporrà con la campagna elettorale la flat tax, si giocherà lì la partita sull'abbassamento delle tasse, voi avete una proposta forte da fare al vostro età? L'abbassamento delle tasse bisogna intenderci se va promesso o va realizzato, perché se va promesso allora io rilancio e dico che faccio pagare il 5%, se invece va realizzato significa capire con i conti dello Stato e i servizi che devono essere garantiti, qual è il livello al quale io posso realisticamente abbassare le tasse. Ricordo a tutti che il centro-destra promise e ahimè attuò l'abolizione del lici e per sostituire il lici introdusse altre due tasse, quindi il tema è che siccome poi i conti come tutte le famiglie devono tornare, se lo stipendio di 1.000 euro e le spese sono 900 è inutile che io prometti ai miei figli di andare a fare una vacanza in un mese dove spendo 2.000 euro, non lo posso fare. Chi sta nell'area di centro-destra dice, ma insomma voi stando col centro-sinistra, col PD non vi occupate della sicurezza, non garantite che sia condannato l'immigrato quando l'immigrato si manca di un reato, ecco voi che cosa proponete? Beh non c'è una giustizia parallela per gli immigrati e per i non immigrati, chi commette un reato deve essere preso, perseguito, condannato e soprattutto fargli scontare la pena. Io credo che l'Italia in questo periodo, in questi cinque anni che ha attraversato con questi due grandi fenomeni, immigrazione imponente e problema di sicurezza causato dagli attentati, in Italia si è dimostrato che sul secondo problemi, grazie a Dio, non ne abbiamo avuti a differenza di molti altri paesi e l'immigrazione essendo un paese di frontiera, anzi il paese di frontiera per definizione insieme alla Grecia, ha dovuto aggiustare il tiro volta per volta per accogliere e non ammazzare come magari qualcuno fa ventilare persone che arrivano in condizioni disperate, questo non significa che occorre trovare una soluzione anche per distribuire equamente il carico in Europa, quindi la risposta rimane ancora una volta dentro l'Europa e nell'Europa e non fuori. A chiudere, una delle accuse che vi muoveranno più spesso è che Malfano ha pensato alla poltrona e non invece a dare una linea politica ad alternativa popolare coerente con la propria natura. A me sembra che anche in questi giorni la nostra coerenza sia evidente, abbiamo detto che non inseguiamo nessuno e non andiamo da nessuno col piattino in mano, anche la dialettica interna legittima che c'è al nostro interno per cui tra quelli che sognano un ritorno a casa e quelli che auspicano una prosecuzione dell'esperienza nell'alleanza di governo, definiamo la nostra identità che è costituita dal fatto che siamo un partito di centro che ha dei valori popolari, cattolici, riformisti e liberali e che dicono cosa vogliono fare e su quali programmi. Su questi programmi troveremo le alleanze. Definire aperoristicamente la mia identità in funzione di quello che ho seduto di fianco lo trovo francamente una mancanza di chiarezza e soprattutto di spina dorsale. Il fatto di essere piccoli non vuol dire di non avere contenuti e sperare di farli cogliere. Come ha detto il nostro amico Gentile, siamo dei nani slanciati e io confido molto di slanciarmi ancora di più.